buongiorno signore e signori ragazze e ragazzi mi chiamo marcello secco e faccio video sulle moto di cui sono appassionato quindi vi chiedo se siete appassionati anche voi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere costantemente aggiornati oggi voglio parlarvi di bsa gold star 650 del 2022 il motore della bsa gold star è un monocilindrico quattro tempi di ohc quindi con quattro valvole in testa raffreddato a liquido da 652 centimetri cubici con una potenza di 45 cavalli a 6.000 giri e una coppia massima di 55 newton metro a 4.000 giri al minuto cambio a 5 rapporti con frizione assistita e antisaltellamento l'impianto frenante alla bs due canali formato da un disco singolo flottante da 320 mm con pinza della brembo all'anteriore il posteriore invece un singolo disco da 225 mm anch'esso con pinza brembo mentre i cerchi come ben visibile sono a raggi la forcella di 41 mm e al posteriore la sospensione formata da una coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico su 5 livelli il faro è tondo e la strumentazione analogica abbinata però moderno lcd centrale il peso in ordine di marcia di 213 kg i consumi si attestano sui 30 km al litro nel ciclo medio per un'autonomia totale di 300 km circa perché il serbatoio ha una capienza di 12 litri quindi una moto che si presenta come potete ben vedere dalla linea classica anche se appunto i componenti che la formano sono poi moderni quindi caratterizzata da un'estetica che richiama appunto le bsa degli anni 60 con il caratteristico serbatoio a goccia la sella piuttosto piatta anteriormente c'è un grande radiatore che quindi insomma disturbo un po la linea però poi di fatto la linea è quella appunto delle moto di quel glorioso periodo bene quindi se vi è piaciuto mettete un like se non vi è piaciuto mettete un dislike attivate come abbiamo detto la campanella dopo essere iscritti al canale in modo da essere costantemente aggiornati supportare il canale grazie mille vi saluto ciao a tutti buona serata